Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 22 gennaio, sono le 15 e 16 e finalmente mantengo la mia promessa, quella di dare a tutti gratuitamente la centratura sui cicli superiori che mi chiedete ormai da un po' di tempo. Stanto il fatto che siamo andati a prenderci un bel long, eccoci qua, e stiamo recuperando piano piano e siamo andati a due operazioni in gain su 4, più una scalpata comunque che è andata bene nel gruppo, contro invece tanti trade positivi fatti sugli indici, direi che è ora di ritornare sul nostro grafico a candele giornaliere su cui tra l'altro all'interno del gruppo premium avevo già postato quella che può essere una centratura alternativa sui T più 2, ovvero sui cicli mensili, che è quella che vi ho indicato con queste frecce. Vi faccio un esempio, da qui a qui con 38 barre può essersi concluso un altro mensile, anche se quello più canonico e più semplice da vedere sarebbe stato quello, stessa identica cosa qui a 33 barre, stessa identica cosa qui con tutte le condizioni rispettate a 31, identica cosa fino a questo movimento qua. Quindi, attenzione perché la centratura va sempre controllata, attenzione perché come già vi dicevo da oltre 5 giorni, probabilmente qualcuno ha guadagnato molto bene dall'ETF, ma non soltanto dalla quotazione ovviamente, ma dal fatto che in tanti si aspettavano il tutto munno, l'avrete visto in tutti i canali dei Fufa Guru, una salita micidiale, mentre invece che cosa è successo? Dopo la quotazione discesa. E' discesa pesante, come già detto nelle scorse analisi. Pesante perché? Per tanti motivi. Primo motivo, andiamo ad allargare bene questa zona e poi rifacciamo altre considerazioni. Primo motivo, da questo massimo, come ho iniziato ad accennarvi a dire nelle precedenti puntate, nei precedenti video, abbiamo violato degli swing molto grossi, non soltanto per la partenza di un mensile inverso e qui vi ho già segnato, grazie al tempo passato sotto questo massimo, che già parliamo, dato che abbiamo un t più 1 inverso, rialzista, ovvero che scende bene, abbiamo la possibilità di far partire serenamente un t più 3 inverso. Qui non vedete più t più 3 inverso, vedete quinto t più 2 inverso. Ok? Queste sono cose che nel gruppo premium sanno già. Lo ho già raccontato un po' di tempo fa. Ok? Per cui, attenzione, perché può non essere finita. E attenzione perché il nostro metodo statistico-matematico non discrezionale funziona in questo modo. Prima c'è un campanello all'allarme che si possa scendere tanto o salire tanto. Che cos'è questa bolla che è saltata fuori? Boh, ok, lo scoprirò. Ok? Seconda cosa, che cosa succede? Viene, arriva una conferma dei volumi, per adesso non abbiamo volumi a rialzo, come ben vedete. Terza cosa, che cosa succede? Iniziamo a rimanere per troppo tempo sotto un massimo. Prima era soltanto una settimana e non siamo riusciti a risalire su. Adesso sono due settimane che lanciano che danno vita a un t più 3 inverso. Ecco perché ho iniziato a darvi gli allarmi, ok? Su Bitcoin. Soprattutto allarme rosso, ok? Non allarme di grado normale. Perché quando inizio a vedere determinate cose io inizio ad avvisare. Poi, chi è intelligente, ha studiato, si è fatto il corso sempre qui sul canale, andando sulla playlist e andando a fare il corso fatto da oltre 31.500 persone, ok? A quel punto lì sa di che cosa sto parlando. E gli altri pensano che io non sappia che cosa racconto, mentre invece il metodo per adesso sta parlando estremamente chiaro. Minimo un t più 3 inverso partito da qui. Prima che cosa c'è però? Perché amo a viderare sempre le persone. Qui abbiamo 181 giorni, quindi da qui ci si potrebbe aspettare qualcosa di più già come partenza. Finito un 181 giorni che è più di un ciclo semestrale, 181. Le antenne dovrebbero adrizzarsi, ok? Perché se non ci fosse stato questo movimento l'aspettativa sarebbe stata di chiudere il t più 3 inverso completamente vincolato a salire. Ma appena ho visto il swing ho detto, e da qui che cosa abbiamo avuto? Da qui, altro punto di attenzione che vi davo, 271 giorni vi bastano per fare un annuale inverso. Qui non c'è la conferma dello swing. Qui non hanno violato lo swing per avere la conferma di un mensile inverso, di un annuale inverso voglio dire. E se torniamo indietro, oltre a un potenziale annuale inverso chiuso, che cosa abbiamo ancora che può essersi chiuso di inverso? Perché adesso, chi di voi sta vedendo l'analisi e sa di che cosa sto parlando, perché se è andato a dare un controllo potrebbe iniziare a sudare un po' freddo relativamente al futuro di Bitcoin, se non arriveranno volumi. Se arriveranno volumi, pace e tutti felici come prima. Ma se già inizieremo, questo minimo quanto è stato? 40.383. 383. 358. E qui la faccenda si fa complicata ad inverso, parecchio complicata. Per cui, io come di consueto avviso, avviso. E come nel passato, magari avviso un po' prima. Poi però scelgo l'enigma e vi dico, no no, guardate, si può ancora continuare a salire, come è stato in precedenza. In questo momento, bisogna fare attenzione perché può partire qualcosa di grosso, di inverso, ed è ancora più grosso di quanto la gente magari potrebbe aver pensato fino ad adesso. Ma predisponiamoci al bene e vediamo che cosa voglio di fare, perché intanto ad ogni minimo che successivamente potrebbero violare, se i volumi continueranno a non dire rialzo, noi pian piano avremo l'idea di che cosa sta iniziando. Se soltanto un trimestrale di inverso, se molto di più, o se moltissimo di più. E se quindi se si continuerà a scendere piuttosto che non. Altra cosa interessante, qui passa una media mobile che è strutturata per Bitcoin. E' la classica media mobile veloce che vi permette di capire se continueremo a salire, oppure se inizieremo a rischiare di scendere. E noi abbiamo rischiato di perderla con questa candela, l'abbiamo perforata con la precedente, poi ci siamo rimasti sopra, dando l'illusione a tutti che si potesse riproseguire, invece per adesso, la candela daily non è ancora chiusa, ovviamente chiuderà tra un po' di ore, per adesso non è buona come candela, non è buono che sia tutta rossa, siamo all'interno della cumo, quindi conoscete la regola della cumo, è possibile che se molleranno questo minimo ci ritroveremo già ad avere un target semplice, ovvero i 39.656, 39.656, live inf cumo, attuale. Ok, giusto per avere un'idea, metto un allarme, ok, e vediamo che cosa succede. E se prendete la situazione dai 68.000 ai 60.000, quando diedi unico praticamente nel panorama del trading l'avviso che si stava iniziando a rischiare di scendere pesantemente se non ci fosse stato un rimbalzo con i volumi, e poi si scese, e poi si arriva esattamente al target che detti attorno ai 15.700, se non mi ricordo male, e esattamente nel tempo che calcolammo, ok, potete rivedere tutti i video, intanto sono tutti qua, insieme agli altri 2.800, ok. Anche questa volta, o iniziamo a risalire sopra questa media mobile veloce, ok, oppure iniziano ad essere volatili per diabetici, giusto per ricordarvi un termine che ci è noto. Questo per quanto riguarda l'inverso, ok, abbiamo guardato l'inverso. Adesso, guardiamoci un attimo lato indice, ok, se il mensile verrà confermato che è partito da qui, ancora una candela e abbiamo chiuso. Una candela che però vada a chiudere completamente il discorso con che cosa? Potenzialmente un 11 giorni di tizio settimanale, quindi l'allarme qui è un bel target anche, ok, se non vorranno provare a far partire un altro settimanale prima di. E potrà esserci un rimbalzo, eh, assolutamente. Quando partirà il nuovo mensile? E se dovesse essere tra due giorni, lo vedremo. Oggi inizieremo a dare un'occhiata, domani si arriva alla 43, barra, dopodomani è la 44. Se invece, disgraziatamente, non ci fosse un rimbalzo di un certo tipo, eh, almeno per ritornare in quest'area di resistenza, ok, sui 44 eccetera, dovremmo prendere in considerazione la centratura B, quella assegnata appunto con le frecce gialle. E per la centratura B, noi saremo solo a 19 barre, lato indice. E con un ciclo per ora di questo genere, ci potremmo aspettare dalla forma dei cicli o un ciclo laterale, al massimo, oppure un ciclo ribassista. E, dovesse essere confermato da qui il mensile, si potrebbe andare avanti fino al 43esimo giorno di poco rimbalzo, molto ribasso, e quindi fino a metà di febbraio. 43 giorni. Dovessimo andare alla durata minima? Come minimo, continueremo a lateralizzare e scendere fino al 27 di gennaio, fino a tra 5 giorni. Se invertissimo invece, entro il 44esimo, potremmo avere, se ritorneremo come detto in quest'area, la comprensione migliore di che cosa sta succedendo, se è giusta la centratura che vi ho sempre fatto vedere prima o se è giusta quella che ho fatto vedere in precedenza solo al gruppo premium. Ok? E questo, questa centratura, penso che possa valere non un like, ma oro. Ok? Quindi, se pensate che questo genere di analisi possono essere utili a chiunque, faccia trading su bitcoin o faccia loader, ossia holder su bitcoin, mettetelo un like. Perché? Perché indicizzerete meglio il video, che è già indicizzato bene, per carità, ma permetterete a più persone di uscire dal palco buoi, gente che pensa che appunto si andrà to the moon appena approvato l'etf, quando invece qualcuno vi segnalava già che il rischio era quello che ha fatto entrare il bue dove pensa di poter mangiare tranquillo, poi si scopre che si è entrato in un macello. E la cosa non è bella per il bue, non per gli altri. Gli altri ci guadagnano con questa discesa. Ok? Per questo motivo io mi sono tenuto stretto la possibilità di fare il mio rimbalzino che è andato esattamente al targettato e ritornando però sul grafico a candele da 45 minuti, quello che viene copiato dalla maggior parte della gente che utilizza la ciclica su bitcoin e che ha imparato da me come minimo ma che non lo ammetterà mai perché vuole guadagnarci. E gli altri auguri con il sentiment, le news e tutto quello che volete. Ok? In ogni caso come vedete abbiamo tempo. Ok? Quindi anche qui valuteremo di mettere un allarme sotto questo minimo perché è? Perché qui abbiamo 24 barre perfette, la condizione necessaria e sufficiente per chiudere il nono t-3 e da qui può essere partito il, guarda tu che novità, decimo t-3. Il discorso sul decimo t-3 possiamo già farlo, possiamo già darlo per buono? Come tempo sopra un minimo? Sì, perché abbiamo più di 5 barre tranquillamente. Ok? Allarghiamo ancora un pochino meglio che si veda meglio perché se no diventate ciechi quando il video viene sempre caricato e inizialmente ha una definizione SD. Ok? Solo successivamente c'è una definizione maggiore. Dopo un'ora che viene caricato diventa, va in 4K. Ok? Per cui potete vederlo perfettamente. Ah giusto, se potete nei commenti sotto il video mi lasciate un feedback relativamente a come si vede il video, la faccia e tutto il resto con il nuovo MacBook M3 perché funziona perfettamente, è una macchina splendida, non ha mai iniziato a sbuffare nonostante tutti i grafici in tempo reale che ho messo ma mi interessa anche sapere se effettivamente si vede ancora qualitativamente meglio rispetto magari al corso o ai video precedentemente fatti giusto per avere un raffronto. Intanto devo dire che sono già molto soddisfatto di questo asquisto dopato di RAM, dopato di hard disk per riuscire a sostenere vari monitor e vari mercati e tutti i dati in tempo reale su piattaforme varie e tutti gli indicatori che non potete vedere in questo video. In ogni caso, appunto, noi mettiamoci un bel allarme qui a 40.439. che bello che stia parlando alla Lagarde così noi ci siamo già fatti la scalpata buona su DAX stamattina e adesso ho più tempo per fare queste analisi. Ok? E poi di qua controlliamo che si possa ancora andare a chiudere l'inverso. Si potrebbe teoricamente ritornare verso quest'area. Ok? Si può fare anche di più perché siamo veramente all'inizio per cui l'allarme va messo qui e poi se volete proprio staccarvi dal monitor mettete un altro allarme qui per vedere se vogliono riuscire ad andare in eccesso e iniziare ad avvicinarsi verso la media mobile a 50 periodi la più veloce che però come vedete non è in Golden Cross. Sta continuando a evitare di incrociare l'altra e sta stortando, sta uncinando costantemente verso il basso. Questo ovviamente ci andrà molto più tempo se fosse mai appunto il caso però tenete d'occhio questo livello della media mobile più rapida in rosso perché sarà quello che ci dirà se si proseguirà a fare un nuovo rialzo oppure se purtroppo non riusciamo a fare molto se anche solo ci staccassimo per un nuovo mensile che poi disgraziatamente si vincolasse il ribasso. Ricordiamoci peraltro che da qui abbiamo fatto 158 giorni su 168 possibili di semestrale ma che attenzione non sappiamo se questo annuale poi a un certo punto lavorerà in semestrale oppure no e non sappiamo determinate altre cose. Vi faccio notare a quanto siamo arrivati anche lato indice. Spartiacque la media mobile in rosso. Se non si riesce a tornare stabilmente qui sopra gli order sono stati avvisati. Vi ringrazio per il vostro tempo, spero abbiate gradito l'analisi e mi aspetto un bel like se l'avete fatto. Arrivederci!